E' il giorno della verità per il Partito Democratico, con l'Assemblea che ha riunito a Roma tutti i delegati dal Molise numerosi gli appelli all'unità, il governatore dividersi sarebbe un grave passo indietro. In una regione dove il rischio sismico è molto alto e il 50% del territorio è soggetto a frane, smottamenti e allagamenti, depotenziare il servizio geologico regionale è stata una scelta irresponsabile. A parlarne è il geologo ed ex consigliere regionale Domenico Dilisa. Domani per tutti gli alunni della Don Milani di Campobasso la campanella suonerà alle 8.15, non più alle 14, dunque è arrivata la fine dei doppi turni. Il Comune di Ripalimosani, in attesa del saldo della protezione civile, ha liquidato tutti gli operatori che sono stati impegnati per far fronte all'emergenza causata dall'abbondante nevicata del 2012. Si è discusso della possibile soppressione della sede della Polstrada di Larino nell'ultimo Consiglio Comunale, in cui l'amministrazione Notarangelo ha dato la disponibilità a concedere a titolo gratuito una nuova struttura pur di non perdere il presidio sul territorio. Un cordiale saluto a tutti, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. In apertura c'è la politica perché si è in attesa di sapere quale sarà il futuro del Partito Democratico. Nel frattempo dal Molise sono partiti numerosi appelli all'unità. È il giorno della verità per i Dem d'Italia. Sono tutti a Roma le anime del PD che si confronteranno durante la fase congressuale che è partita oggi con l'attesa assemblea. E nelle ore antecedenti si sono moltiplicati gli appelli delle varie anime che compongono il partito. Anche il Molise ha fatto la sua parte. Prima di tutto l'appello all'unità. La scissione per molti sarebbe un atto incomprensibile, dunque da scongiurare. Il Partito Democratico è diventato la mia casa, ha scritto il governatore Frattura in una nota. L'unità, che anche in Molise ha saputo valorizzare, ci ha consentito una piena rappresentanza parlamentare, con due deputati e un senatore. E l'esperienza di governo regionale, che abbiamo l'onore di vivere da quattro anni. Dividersi, conclude Frattura, sarebbe un inutile passo indietro, un gesto irresponsabile. Abbiamo ancora tutto il bisogno di tutti. Restiamo uniti, ce lo chiede la storia di questo nostro grande partito e il futuro dell'Italia. Quando andremo al voto, dice invece una nota a firma di numerosi eletti molisani nelle fila del PD, ci sarà bisogno di un grande partito, forte e moderno, che sappia dare risposte serie, concrete, fattibili alle vecchie e nuove urgenze dei cittadini, tra cui il bisogno di sicurezza. Non guardiamo a quello che ci divide, concludono nella nota, ma a quello che ci unisce. Non guardiamo dietro di noi, ma davanti a noi, insieme, possiamo farcela. E infine anche il presidente della provincia di Campobasso al riguardo ha preso una posizione chiara. Occorre non cedere ai personalismi, ha detto, che non fanno bene ai cittadini di un'Italia e di un'Europa, che devono guardare con ottimismo al futuro. Per risolvere i problemi è indispensabile compattezza ed elasticità nel confronto e credo che il PD possa e debba superare questo momento per essere protagonista di una solida rinascita. In una regione come il Molise, dove il rischio sismico è molto alto e per il 50% è soggetto a frane, smottamenti ed allagamenti, depotenziare il servizio geologico regionale è stata una scelta irresponsabile e sbagliata. A dirlo è il geologo ed ex consigliere regionale Domenico Di Lisa che commenta che questa maggioranza alla regione è peggio di Attila. Il governo e la maggioranza regionale sono come Attila, dove passano loro non cresce più neanche un filo d'erba. Il commento drastico arriva da un ex consigliere regionale, Domenico Di Lisa. Sembrano tutti presi dalla furia di cancellare le scelte del passato, nonostante in tale passato fossero complici o conniventi e così facendo distruggono anche tutto ciò che di buono e sensato era stato fatto. Una di queste, qui di Lisa veste i panni non solo del politico ma anche del geologo, l'atto di riorganizzazione delle strutture dirigenziali della giunta regionale con cui si stravolge la struttura dirigenziale del servizio tecnico sismico e geologico del quarto dipartimento. Una decisione che ha provocato l'immediata reazione dell'ordine dei geologi del Molise che ha fatto notare il controsenso. Da una parte la regione proclama la necessità di dedicare maggiore attenzione al territorio e di investire più risorse nella prevenzione, di cui si parla tanto subito dopo la sciagura di turno, dall'altra nella pratica fa il contrario, l'approvazione di una delibera che riporta il Molise indietro di 30 anni. In risposta il consigliere delegato alla protezione civile regionale ha sostenuto che non siamo di fronte a nessun depotenziamento. L'ufficio geologico e sismico è semplicemente confluito nella protezione civile e ciò permetterà di affrontare con uniformità e immediatezza ogni situazione di prevenzione ed emergenza. Di lì sa allora in calza, ma la protezione civile lo sa quali sono i suoi veri compiti e quali invece quelli di un geologo e fa un esempio. Una fuga di materiale tossico da uno stabilimento è competenza della protezione civile, ma non certo di un geologo. Prevenire il rischio geologico e sismico, pianificare e gestire il territorio, è compito di un geologo e non della protezione civile. La situazione che si verrà a creare dovrà probabilmente servire ad economizzare i costi, ma in questo momento di grandi e continui terremoti nell'Italia centrale, dopo San Giuliano di Puglia, dopo l'Aquila, in un Molise ad elevato rischio sismico e per il 50% interessato da dissestro idrogeologico, invece di chiamare altri geologi in regione, li si manda via o li si mette a fare altro. Forse, conclude Dilisa, prima di fare una scelta così irresponsabile e sbagliata, la regione avrebbe dovuto confrontarsi con chi ha fatto nascere e ha organizzato l'ufficio e poi il servizio geologico regionale, ma in Molise ormai sembra che buonsenso e umiltà siano merce sempre più rara. Un primo risultato raggiunto per l'emergenza scuole a Campobasso, domani infatti i bambini della Don Milani torneranno a sedersi tra i banchi di mattina, ma i genitori e la minoranza di Palazzo San Giorgio non abbassano la guardia sul futuro della scuola di Via Leopardi. Ci siamo, domani per tutti gli alunni della Don Milani di Campobasso la campanella suonerà alle 8 e 15 e non più alle 14. Fine dei doppi turni dunque e finalmente il ritorno alla vita normale per i bambini che potranno riprendere i loro ritmi naturali dedicandosi nelle ore pomeridiane a tutte quelle attività che dallo scorso mese di novembre sono stati costretti ad abbandonare. I circa 500 alunni della scuola di Via Leopardi verranno distribuiti in tre diverse strutture, nove classi verranno trasferite nelle aule messe a disposizione dall'università. La campanella suonerà il secondo piano del secondo edificio polifunzionale di Via De Sanctis in un'ala di 500 metri quadrati della Facoltà di Economia a cui si accederà mediante un apposito ingresso laterale riservato. Altre tre classi della Don Milani saranno ospitati all'interno del liceo artistico Manzù nell'ala ovest del piano terra. Il resto, le classi primarie quinte, sono state già sistemate all'interno della Egino Petrone di Via Alfieri. Una sistemazione che almeno fino alla fine dell'anno scolastico pare accontentare i genitori degli alunni che si sono sempre battuti perché i propri figli frequentassero la scuola nel loro quartiere. Una soluzione provvisoria dunque che però non fuga tutti i dubbi sul futuro dell'edificio di Via Leopardi. Per i tecnici dell'Università del Molise, a cui Palazzo San Giorgio ha commissionato lo studio di vulnerabilità sulla struttura, quella scuola va infatti abbattuta e ricostruita. Sarebbe antieconomico per le casse comunali intervenire con dei lavori di adeguamento sismico. Cosa succederà ora a settembre? Resta un'incognita. Lo spauracchio via Gorizia è dietro l'angolo. Peraltro l'edificio, a differenza di altre dieci scuole della città, non è rientrato tra gli studi di vulnerabilità commissionati dall'Unimol. Sulla scuola stanno lavorando solo i tecnici del Comune. Si è discusso della possibile soppressione della sede della Polizia Stradale di Larino nell'ultimo Consiglio Comunale, in cui l'amministrazione Notarangelo ha dato la disponibilità a concedere a titolo gratuito una nuova struttura pur di non perdere il presidio sul territorio. Si cerca di correre ai ripari a Larino prima che arrivi il peggio. Il peggio in questo caso è la possibile chiusura del distaccamento della Polizia Stradale. Per ora la proposta è contenuta in un piano nazionale che prevede la soppressione del presidio appunto e il trasferimento dei sei dipendenti al commissariato di Termoli. Sarebbe una perdita importante per Larino e il territorio circostante, in un periodo in cui già si fanno i conti con la trasformazione del Vietri, che non è più un ospedale, e con il pericolo che anche il Tribunale perdi la sua autonomia. Se ne è discusso in Consiglio Comunale, dove è stata approvata una delibera che si oppone a qualsiasi ipotesi di chiusura e chiede di mantenere il presidio per evitare ulteriori tagli al territorio. Nell'atto viene ricordato che molti paesi dell'Interland sono enti promotori di progetti SPRAR e che necessitano di un maggior controllo sul territorio. Non solo viene chiesto il mantenimento del presidio anche in previsione dell'imminente attivazione del centro di accoglienza di San Giuliano di Puglia. Presto la questione verrà portata davanti al prefetto e anche la delegazione parlamentare molisana si interesserà dell'argomento. Nel frattempo però l'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Notarangelo per scongiurare la soppressione ha già dato la disponibilità a concedere incomodato d'uso gratuito i locali dell'ex carcere che si trovano in via Cluenzio e che già sono stati dichiarati idonei a ospitare la polizia stradale che così lascerebbe l'attuale sede dove al momento il Ministero paga l'affitto. Giovedì prossimo alle 19 al Palazzo Zurlo di Baranello ci sarà un nuovo incontro pubblico per informare la cittadinanza sul progetto SPRAR e sulle modalità di accoglienza ma intanto il sindaco Marco Maio ha pubblicato una lettera rivolta ai cittadini che intendono mettere a disposizione appartamenti o abitazioni private da destinare ai richiedenti asilo. L'amministrazione comunale ha infatti già dichiarato di non essere in possesso di edifici pubblici da destinare a questo scopo dunque l'invito ai cittadini che se interessati dovranno rispondere all'avviso entro 20 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 17 febbraio. La mancata risposta si legge nella nota a firma del sindaco sarà considerata quale dichiarazione di indisponibilità. Tale richiesta si rende necessaria per una corretta valutazione delle eventuali procedure da attivare. Il primo cittadino evidenza inoltre che gli edifici devono essere in possesso del certificato di agibilità e usabilità con gli impianti a norma e inoltre obbligatorio stipulare il contratto di affitto per almeno tre anni con il soggetto gestore del progetto di accoglienza. Il comune di Ripalimosania ha liquidato di tasca propria tutti gli operatori che hanno fatto fronte all'emergenza causata dall'abbondante nevicata del 2012. Sono trascorsi esattamente cinque anni ma finalmente si chiude un annoso capitolo contabile per il comune di Ripalimosani. L'amministrazione ha infatti liquidato definitivamente con fondi propri tutti gli operatori del piano neve 2012 che attendevano il saldo dalla protezione civile regionale per il lavoro effettuato in occasione della grande nevicata che investì il Molise nel febbraio di cinque anni fa. In quell'occasione la delibera della giunta regionale data l'eccezionalità delle precipitazioni autorizzava i comuni ad utilizzare tutti i mezzi e gli strumenti necessari a garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade. La protezione civile regionale avrebbe dovuto liquidare le relative spese ma dopo un acconto di 25.000 euro sotto l'amministrazione Petti nessuna risorsa è stata versata nelle casse del comune. Per garantire dunque agli operatori il dovuto corrispettivo l'amministrazione di Bartolomeo nel 2014 al primo anno del suo mandato ha liquidato una prima tranche pari al 50% della somma complessiva. Nel 2016 ha poi effettuato un secondo rimborso pari ad un ulteriore 25% della somma totale. Oggi il debito è stato saldato completamente con il versamento agli operatori da parte del comune di Ripa Limosani dell'ultimo 25% corrispondente a circa 24.000 euro. Sono state avviate dunque le pratiche di liquidazione dei lavori per l'anno in corso essendo già state riconosciute tutte le spese ordinari degli anni passati. Gli operatori che lavorano nello sgombero neve avevano tutto il diritto di intraprendere azioni illegali nei confronti del comune, ha detto il sindaco di Bartolomeo, attivando una catena di rivendicazione infinita. Non solo, con senso di responsabilità non l'hanno fatto, ma in questi anni hanno continuato a garantire alla comunità un servizio impeccabile e costante e voglio esprimere nei loro confronti la massima gratitudine. Mia nipote nella giungla, tutto ciò che lo attende, il titolo dell'ultimo libro di Olivier Robè, ospita a Campobasso dell'Unione dei Lettori Italiani, noi lo abbiamo intervistato. Viviamo in una giungla, sia esteriore che interiore. Il giornalista e scrittore Oliviero Bea, per affrontare le difficoltà dei tempi moderni, ha deciso di scrivere un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Una bussola per ritrovarsi e ritrovare gli altri nonostante la realtà. A Campobasso Bea ha presentato, mio nipote nella giungla, tutto ciò che lo attende, nel caso fosse onesto. Ormai questa è un'umanità, una società in senso globale che ha pasticciato moltissimo con la propria interiorità e si è dedicata, si è esteriorizzata, si è dedicata quasi esclusivamente all'esterno. Infatti io parlo nel mio libro di fondamentalismo finanziario, del fondamentalismo del denaro. Ci sarebbe tanto bisogno che uno riuscisse di nuovo a sapere come stare con se stesso, da solo con se stesso, trovare il tempo per stare con se stesso, per sapere come è fatto, perché per esempio come si sono fatte le cose fuori, più o meno sappiamo, ce le raccontano magari distorte, ma insomma in linea di massima, ma come siamo fatti noi di dentro, che rapporto c'è fra il nostro dentro e il dentro degli altri, beh, su quello siamo molto deboli. Ospite della rassegna scritti di cuore, promossa e organizzata dall'Unione Lettori Italiani con la direzione artistica di Brunella Santoli e dal Comune di Campobasso, Bea, tra racconti e confessioni in uno stile accattivante, firma una critica feroce dei nostri giorni alle prese con il futuro. Un manuale appassionato di sopravvivenza pratica e intellettuale che non nasconde i pericoli senza rassegnarsi alla rassegnazione, soprattutto per un giovane o per un neonato, il futuro è una muraia altissima, apparentemente insuperabile e la giungola in cui siamo precipitati sembra inestricabile, difficile trovare una direzione. Siamo più o meno tutti smarriti e lo si vede dal malessere generale, i giovani sono più a rischio perché hanno più vita davanti e quindi si possono, come dire, trovare sempre più in difficoltà. Per i meno giovani, per i maturi cosiddetti o addirittura per gli anziani ci dovrebbe essere una consapevolezza diversa, ma temo che la si stia perdendo. Bene, ora diamo invece uno sguardo alle previsioni del tempo. Queste le previsioni per domenica 19 febbraio. Il fronte instabile transitato sul sud-est nel corso di sabato si allontana rapidamente verso Levante. Ne consegue una residua nuvolosità al mattino sulla nostra regione che lascerà spazio ad ampi rasserenamenti. Temperature in generale diminuzione, sia nei valori massimi che nei minimi. Eccole nel dettaglio. Campobasso 1-7, Isernia 1-9, Termoli 7-11, Venafro 2-10. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie.